Ciao a tutti, ciao a tutti, sono qui sul mio canale, io sono Alcredito, ho un nuovo video, questa volta siamo su Destiny, volevo fare un video online per variare dal solito, missioni settimanali, giornaliere e così e volevo farlo appunto con questo setup, ovvero con il cecchino, eccolo qua, appena acquistato da Xur questa settimana, e questo cecchino più l'arma primaria che ovviamente la trasformerò in secondaria, trasformandola appunto in pistola di supporto, insomma cercherò di non usarla troppo spesso, eccola qua, la pistola del canale della Vanguardia e niente, sto provando anche il nuovo microfono, che adesso vi faccio vedere, eccolo qua, qui, eccolo qui, ho comprato questo Samsung Meteor, non è male, nel senso, dovrebbe fare bene il suo dovere, ecco e non me la sentivo, insomma, di comprare uno Yeti, insomma, un blu Yeti, perché comunque sono 100 passa euro, non è nemmeno, come dire, non mi serve nemmeno tutta questa qualità, ecco, mi basta avere un microfono, come dire, da usare con la Playstation, insomma e niente, e che si registri bene, ecco, perché volevo usare appunto il microfono delle Tartle Beats che ho qua sopra la testa, perché mi dà fastidio davanti qua, mi rompi i coglioni e nel frattempo usare questo microfono al PC, modo tale da poter magari conversare con chi sto giocando da Play e nel frattempo registrare la mia voce, speriamo in HD, perché comunque devo fare ancora un po' di prove, di settaggi adesso qua c'ho Audacity aperto, ho fatto due o tre prove veloci e in questa posizione ho dovuto abbassare un po' per dire il volume di registrazione, perché andava troppo in alto il microfono è unidirezionale, quindi se mi mettessi a parlare, ovviamente di lato, si sentirebbe poco o comunque meno e niente, insomma, adesso datemi tempo, qualche video, qualche prova, insomma, adesso quando lo ripubblicherò, li riguarderò anch'io tanto per sentire con me l'audio, poi magari riusciremo a trovare un giusto compromesso, una buona qualità e in ogni caso, eccola qua, partita, ripeto, con cecchino, cercherò di usarlo, di usare più spesso il cecchino non fa la pistola, perché comunque la pistola qua viene considerata come arma primaria ed è appunto valida come arma primaria non è come fare una partita solo con l'attack in Black Ops 2, è ben diverso, qua la pistola è molto molto più forte e quindi, e quindi niente, si può fare tranquillamente una partita con quella partiamo già col cecchino e tu e tu e no ho mancato le mancazioni e là? you dead? you dead? you dead? no no come è andato? eccoli qua, i classici, questi sono i classici, eccoli qua, fantastici giocatori che spaccano i coglioni con cui fucile a pompa di merda ma non è quel cazzo di fucile a pompa? eh, magna che cazzo ci servono le munizioni di cecchini allora dove è qua il nemico? questo cecchino, l'ho deciso di usare cecchino perché è l'unico cecchino che sembra un cecchino, cioè, gli altri sono tutti molto finti madonna, dai, su cazzo sono rifatte le munizioni iii granate che mi stavano per distruggere devo ancora ecco, per dire, devo ancora uuuh eh, non vedo uno che ci sono gli spigoli che non ci sono che cazzo, dai, si era bloccato lì nel muro non c'ho ancora le abilità per quest'arma, quindi cioè, in teoria, mirando, doveva rimanermi attivo al radar ha arrivato a un certo punto dell'evoluzione eh, purtroppo non posso non è che non posso muovere qui di tanto è che diventa molto molto difficile perché non ci sono qui di scopo, sono quelle cagate distrutto però iiii, iiii, vai spadaccino, vai, vai, vai che mi prendo le tue sfere oh, bombe iiii, iiii fantastica madonna, lì ce ne erano tanti però lì sono stato un po' troppo frettolano ho voluto spammare quella quella bomba potevo aspettare un attimo non ha di tenermi a spammarla su quelli lì a sinistra e sono giustamente venuti a prendermi aia uh chi è qua? mmm i lanciamissili fanno male vediamo se riusciamo uh eh vabbè ragazzi dovevo un po' troppi attorno non potevo fare più di tanto ho fallito quel colpo perché qua non mi pare ci sia l'automira l'aiuto che c'era ci sono su code e poi di di quindi e se c'è comunque è molto strano da usare per esempio vedete qua questo lo fa questo qua i ma dov'è? cioè ma in tutto cazzo erano? ma c'erano sette simboli non c'era nessuno guardali si ammassano lì nell'angolo con i fucili a pompa madonna poi non capisco quando muoio mi toglie i colpi ora accolti lasciameli spacca amaro dai 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 lo cecchinare qualche hit in mezzo niente andiamo qua qui eh beh ma c'è il casco esotico ma mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia il dramma di un player iiii you dead again dramma boom un pugno oh no gli ho dato il pugno ci stava ci stava fantastiche giocate fantastiche giocate in realtà stavo parlando era censurata però c'è stata una piccola censura mamma mia che che fantastici giocatori mamma mia che distruzione totale you dead no no scope ragazzi questa parola di un cocecchino è andata no da dio ma quasi quasi mi sono divertito a giocare così insomma un po' diverso dal solito vediamo cosa mi ha tominato head hunter attenzione probabilmente era la sfida che dovevo bene ragazzi scusate ho avuto dei problemi con la web nel senso che si è scaricata la batteria e quindi non sono riuscito a registrare l'ultima parte del video in ogni caso vi saluto spero che il video vi sia piaciuto un saluto dai kriege scusate se di nuovo se manca la webcam a fine video al prossimo video di destiny o comunque di qualsiasi altro gioco probabilmente attenzione probabilmente magari di advanced warfare manca pochissima l'uscita e spero di ritrovarvi di nuovo sul mio canale per nuovi video ciao 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 ciao